All'uscita dal carcere di Forni dopo l'interrogatorio di garanzia all'ex sindaco di Capaccio e presidente della provincia di Salerno, i suoi avvocati De Caro ed Alessandro parlano di un Franco Alfieri provato dal carcere ma pronto a dimostrare la sua estranità ai fatti. Come una persona che sta in carcere, chiaramente provato ma è una persona forte ed è sicura della sua estranità ai fatti. Per come si è difeso dimostra tutta la sua estranità. Noi riteniamo che ci siano degli elementi difensivi importanti e poi per il resto ovviamente ci dobbiamo studiare tutte le carte. L'indagine è complessa, gli atti sono migliaia e migliaia, noi abbiamo avuto come dire modo di vederne alcuni, una parte, ma nonostante tutto ha ritenuto che fosse giusto per un uomo delle istituzioni difendersi e chiarire quello che è riuscito a chiarire. Alfieri avrebbe dichiarato di essere estranio alla società gestita dalla sorella Elvira e che ad occuparsi degli appalti sono gli uffici comunali. In attesa che la giustizia faccia il suo percorso la politica deve andare avanti. Il PD salernitano dopo l'arresto di uno dei suoi leader prova a riorganizzarsi. Ieri il vertice in provincia. È stata ribadita a piena fiducia nella magistratura e l'impegno di tutti per garantire la continuità dell'azione amministrativa della provincia lavorando in maniera collegiale con il vicepresidente Giovanni Guzzo. E su Alfieri continuano a piovere messaggi di solidarietà da parte dei sindaci. Il primo cittadino di Canna Longa è un uomo che tanto si è impegnato per la crescita del Cilento. Sul fronte opposto il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone. Aspettiamo a Salerno la marcia della Schlein e di Conte proprio come fecero in Liguria perché la regione non poteva rimanere ostaggio di Toti agli arresti domiciliari. Ma ora neanche una marcetta a Salerno per non far rimanere la provincia ostaggio degli arresti in carcere di Alfieri? Grazie a tutti. Grazie a tutti.